Domenica è una giornata dedicata alla prevenzione, torna lo screening al Forte Michelangelo. Come sarà gestita la giornata? Allora sì, la Sle Roma 4 ha voluto approfittare di questa giornata di prevenzione sul comune di Civitavecchia per portare di nuovo tutti e tre gli screening, come sapete che facciamo ormai con consuetudine, nella nostra città. Quindi vicino al Forte Michelangelo ci sarà l'unità mobile dove verranno erogate le mammografie per le donne però in fascia screening, quindi 50-74 e l'erogazione dei test per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, quindi PAP test, HP più test e lo screening del collo retto. Quindi vi aspettiamo assolutamente per questa giornata sia di festa che avrà la nostra città ma soprattutto di prevenzione. L'avete ribadito tante volte, l'importanza appunto della prevenzione rispetto a queste tipologie di malattie? Sì, assolutamente sì, naturalmente prevenire è importante perché questo porta a delle cure meno invasive, a degli interventi sicuramente meno invasivi. Poi la cosa che insomma ci tengo particolarmente con lo screening, essendo la coordinatrice, è ricordare alla popolazione che lo screening non è un esame. Lo screening è un percorso, quindi le donne vengono, e così gli uomini per quanto riguarda il collo retto, vengono seguiti e abbracciati a 360 gradi. Innanzitutto non è l'ottobre rosa che è una giornata, noi siamo presenti sul territorio tutti i giorni, 365 giorni l'anno, naturalmente con gli anni pari sul quarto e terzo distretto, negli anni dispari sul primo e il secondo, quindi ricordo che da gennaio saremo proprio qui per tutta la popolazione, quindi per chi non riesce a farla il 6 di ottobre, insomma da gennaio, dal 7 gennaio saremo qui a Civitavecchia proprio per voi, e che le portiamo avanti su tutto quello che è la diagnosi, quindi sugli approfondimenti, sul pap test, sulle colposcopie, sulle conoscopie, eccetera. E poi la novità, che già ormai è più di un anno che facciamo, è che i secondi livelli del mammografico e del citologico vengono erogati sull'unità mobile. Da gennaio partiremo addirittura sull'unità mobile con il mamotom, quindi diciamo le donne non dovranno più muoversi, non è come Civitavecchia che noi abbiamo il nostro ospedale che insomma funziona benissimo, però per i comuni quelli un po' più dislocati, meno serviti dagli ospedali, naturalmente questa è una comodità, perché portiamo tutti e tre i due livelli, quindi il primo livello con la mammografia e tutti gli approfondimenti che eventualmente dovrebbero seguire, direttamente nel comune di appartenenza, senza far spostare la popolazione. Tornando all'appuntamento di domenica, ci si vede al Forte Michelangelo? Assolutamente sì, per tutte le donne che sono interessate possono chiamare il nostro numero verde, che è sempre il solito, da tutte le mattine dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14 alle 16. Poi certo se qualcuno vuole venire e farla, noi siamo ben contenti di accettarla anche quel giorno senza prenotazione.